Paolo Cevoli, Angelo Fabbrini e Suor Francesca Federici sono i tre vincitori dell'edizione 2022 del premio Circolo della Stampa che assieme ai riconoscimenti orgoglio pesarese tributati a Ferdinando Cecini e Giorgia Righi hanno confezionato una 36esima edizione della rassegna che a Palazzo Montani Antaldi ha fatto ancora una volta il pieno di applausi e di emozioni. Diciamo che il premio del Circolo della Stampa è il più sentito riconoscimento che questa città dia ai suoi cittadini che si sono resi meritevoli di atti che poi hanno fatto conoscere la stessa città al di fuori dei confini in qualche caso anche al di fuori dei confini nazionali. Il comico attore e cabarettista Paolo Cevoli è stato premiato anche con il riconoscimento del Consiglio Comunale per elevati meriti volto a celebrare il ventennale legame di Cevoli con Pesaro e la cooperativa sociale L'imprevisto. Mi fa molto piacere, poi c'è un rapporto non solo con la città ma con una delle cose più belle che Pesaro ha generato grazie a Sì che è un emigrato, ma anche te non sei di Pesaro quindi è inutile che... Siamo tutti stranieri in patria. Noi siamo stranieri in patria però siamo felici di essere ospiti di questa meravigliosa città. Quel buon umore che da vent'anni porta nella comunità L'imprevisto di Silvio Cattarina. Ci conosciamo da vent'anni in maniera casuale come tutte le belle cose nascono per un imprevisto e devo dire anche questa cosa è nata però poi col tempo è continuata, sta continuando con questo... Fra l'altro con ultimo questo progetto bellissimo che si chiama Capriole, storie di fallimenti e di rinascite dove la comunità L'imprevisto ha un ruolo da protagonista come è giusto che sia e così anche continuerà. Per noi è un grande dono, basta pensare ai miei ragazzi quanto sono felici sempre ogni volta che viene, che viene a trovarci, che Paolo parla loro, che dice le sue pataccate. Sono più loro che parlano però devo dire la verità, io sono più ad ascoltare, devo dire così. Quindi per noi è un grande dono, una felicità sempre molto infinita. Applausi acevoli alla maestria del tecnico di pianoforti Angelo Fabbrini e all'opera di suon Francesca Federici suora di clausura in Nigeria così come all'impegno verso l'accessibilità di Giorgia Reghi e a chi come Cecini ha conosciuto e raccontato Pesaro dagli anni 60 quando arrivò dalla Valtellina. Vengo da lontano però è dal 1967 che sono a Pesaro. Mi sono ritagliato un angolo di spazio nella ricerca della letteratura che descrive la città ed è alla ricerca del genius loci che penso di aver contribuito a delineare un aspetto dirò abbastanza importante della nostra città che amiamo tanto.